Ciao, siamo al ristorante e pizzeria La Nuova Europa a Balangero. Vi volevo presentare i nostri multi impasti, come qualcuno già lo sa e qualcuno non lo sa, comunque abbiamo qui l'integrale, la pizza integrale, a seguire il curcuma e curry, questo impasto giallo che potete vedere, alle spezie, un impasto molto buono, il famoso carbone vegetale che già molti lo conoscono, il paprika e il cipolla, il fibra, impasto alle fibre, molto leggero, tutti questi impasti hanno una lievitazione almeno di 36 ore, quindi dalle 36 alle 72 ore, quindi molto digeribili, manca solo oggi il multi cereali, comunque abbiamo anche quello, molto buono, vi aspettiamo per assaggiarli, ciao a presto dalla Nuova Europa a Balangero.